Sono consapevole della sofferenza che i giovani e i meno anche i più giovani hanno subito a causa delle restrizioni necessarie per contenere la pandemia. E come ho detto faremo di tutto per evitare che quell'esperienza si ripeta. Per questo però occorre prendere precauzioni. Precauzioni anche nella scuola. La prima cosa da fare è uno screening delle scuole. Su questo il generale Figliolo si è messo in moto. Se è necessario potenziare questo sforzo in varie direzioni, come credo sia necessario, lo faremo. Il secondo è testing, quindi testare continuamente. E la terza però, ripeto, continuo a dire, è la vaccinazione. La vaccinazione di tutti e oggi anche dei bambini. Oggi anche dei bambini. Tutto questo è necessario, forse mi ripeto, per cercare di difendere quel poco di normalità che c'è restato. Grazie.